Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la seconda e ultima sfida di Groot, cioè quella di usare un emote nei pressi del Monumento dell'amicizia. Il Monumento dell'amicizia si trova praticamente qui a sabbie sudate, qui dove ci sono questi alberelli e dove c'è anche questo castello. Non potete assolutamente sbagliarvi. Ecco il Monumento dell'amicizia, quindi vi avvicinate e voilà, il gioco è fatto e la sfida è completata.